Buongiorno da Telpress Italia. Primo piano nota stampa di venerdì 4 febbraio. Sahel, la Francia è pronta a lasciare il Mali, scrive la Repubblica. La Francia volta pagina in Mali con l'espulsione dell'ambasciatore francese da parte della nuova giunta militare e i mercenari russi della Wagner che si comportano da padroni a Bamako. Il ministro Guerini sul Sahel, scrive il foglio, in risposta ad un articolo pubblicato ieri di Daniele Ranieri, scrive La nostra presenza, non solo militare, è cruciale per la stabilizzazione dell'area Il Sahel è strategico per l'Italia, la nostra presenza non è solo militare è un territorio altamente instabile dal punto di vista politico e sociale ed estremamente povero dal punto di vista economico Quello militare, continua il ministro, è solo uno degli strumenti messi in campo dall'Italia La situazione continuerà ad essere costantemente monitorata attraverso uno stretto coordinamento tra la difesa, il ministero degli esseri e il coinvolgimento del Parlamento per una puntuale valutazione delle evoluzioni in corso Il Sahel è diventato uno dei capisaldi della nostra azione esterna Negli ultimi anni abbiamo infatti progressivamente incrementato la nostra presenza agendo sia su base bilaterale sia con il contributo alle iniziative di ONU, UE e multilaterali Il cittadino di Lodi riporta le reazioni al giuramento del presidente Mattarella avvenuto ieri tra i vari esponenti politici anche l'intervento del ministro della difesa Lorenzo Guerini che sottolinea tra le parole di saggezza e speranza del presidente la sua autorevole e preziosa avvicinanza alle nostre forze armate Otto Melara, la Wilm scende in campo l'azienda Resti in mani italiane riporta a Nazione La Spezia Sul futuro di Otto Melara e UAS prende posizione il segretario provinciale Wilm Graziano Leonardi ribadendo la necessità di far restare l'azienda in mani italiane Nella direttiva per la politica industriale della difesa emessa dal ministero si parla di tutela del patrimonio tecnologico ed industriale nazionale Valorizzazione delle competenze tecnologiche prosegue Leonardi Come si può sostenere che la vendita di Otto Melara e UAS ad un consorzio estero garantisca questi principi emanati dal governo? Arsenale restituito alla marina militare Danno erariale grave per la città, scrive Nuova Venezia Roberto D'Agostino, dieci anni fa dirigente della società Arsenale interviene nel dibattito sul futuro degli spazi Il comune deve avere qualcosa in cambio sta privatizzando uno dei luoghi più importanti della città Nella commissione consigliare di mercoledì il generale Michele Giovanni Caccamo ha spiegato che il ministero della difesa ha già investito per restauri 8 milioni e ne investirà altri 5 per risistemare quella parte che servirà per uffici, magazzino e base navale L'ombra pesante del nonnismo nelle ultime ore di vita del Parà morto ai piedi della scala in ferro a Pisa sulla Nazione Nella sentenza emerge di nuovo il clima di nonnismo dell'epoca tutta la vicenda riportata nell'articolo E sul fatto l'attacco al generale Figliuolo sul costo delle FFP2 Le FFP2 di Figliuolo ci costano 24 milioni in più è la denuncia dei dirigenti scolastici Ed infine sul foglio si parla di Stato al sicuro e di come cambia il ruolo dell'intelligence nella tutela della sicurezza nazionale Tra i temi esteri l'intervista al ministro delle finanze tedesco Christian Lender sul Repubblica Il patto si può migliorare ma il debito scenda Bisogna ritagliarsi i margini per investire nel futuro economico L'Italia resta un partner stabile e affidabile nella UE Le banche centrali devono avere la possibilità di reagire agli scenari inflazionistici L'Italia ha un enorme potenziale economico Lagarde prepara la stretta inflazione oltre le attese Spread ai massimi dal 2020 scrivono La Repubblica e La Stampa Ora un rialzo dei tassi nel 2022 è possibile Dei BTP lo spread va al 100 a 150 E per i temi legati al virus svolta di Francia, Svezia, Finlandia cresce la lista dei paesi che riaprono scrive il Corriere Cambiano le regole come il Regno Unito e Danimarca in Germania secondo booster ai deboli La Russia muove i BTG i gruppi tattici e armati che fanno paura alla Nato scrive la Repubblica Sono equipaggiati e addestrati in modo da avanzare alla massima velocità eliminando qualsiasi resistenza sulla loro strada con il sostegno aereo Il ministro di Kiev avverte l'Occidente Se fallite con noi non sarete mai sicuri scrive la stampa Un fallimento dell'Occidente in Ucraina è un messaggio a tutto il mondo che l'Occidente è incapace di difendersi Un video falso per poi attaccare Allarme della CIA Attenzione a Kiev Erdogan scrivono La Repubblica, La Stampa ed altre testate Macron, Scholz, Mosca per evitare il conflitto Gli Stati Uniti dicono il Cremlino ha pronto il pretesto per invadere Putin a Pechino abbraccia Xi Noi la nuova alleanza globale Asse sul gas riportano La Repubblica e il messaggero L'incontro oggi per l'inaugurazione dei giochi invernali La crisi con l'Occidente spinge il leader russo verso il caro amico cinese Ed infine sotto attacco hacker i terminali petroliferi del nord Europa riporta La Repubblica Un'ondata di attacchi ha colpito alcune importanti infrastrutture energetiche del nord Europa E per i temi dell'economia Smart working arriva all'affondo del ministro Brunetta sul Corriere ed altri quotidiani Contaggi giù, basta far finta di lavorare da casa Brunetta spinge sul rientro dei dipendenti pubblici negli uffici e lo fa schierandosi polemicamente contro il finto lavoro di molti Anche la stampa sull'attacco del ministro su chi fa finto smart working senza vaccinarsi Il sindacato insorge Dichiarazioni che screditano i lavoratori La notizia attacca Brunetta fuori controllo Dà del fannullone a chi è smart working Pensione extra Il pressing TFR Ai fondi col silenzio assenso Iniziano le piccole imprese Riporta il messaggero Nuovo confronto tra governo e sindacati sulla riforma Lunedì vertice politico sulla flessibilità L'incubo inflazione sui contratti scaduti E scontro sui salari Riporta la Repubblica L'allarme dei sindacati Adeguare le buste paga ai rincari dell'energia Il nodi confindustria Piuttosto abbassiamo il cuneo fiscale I sindacati sono pronti a portare il tema all'attenzione del governo Romani della CISL parla di nuovo patto sociale da siglare Definire una nuova politica salariale Confindustria però mette le mani avanti Parlare di aumentare salari è una provocazione Dice il vicepresidente Stirpe Se si vuole recuperare il potere di acquisto dei lavoratori Si deve tagliare il cuneo fiscale Le imprese e sigle dei metalmeccanici Chiedono insieme un tavolo al Premier Per denunciare i gravi rischi per la filiera Dell'automobile Di una transizione all'elettrico non gestita Scrivono la Repubblica e il Sole L'allarme di Federmeccanica e sindacati Scrive il messaggero L'automotive rischia 70.000 esuberi Intanto il governo potrebbe subordinare i bonus edilizi 110% all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore Lo annuncia il ministro Orlando Visti i gravissimi dati sulle violazioni delle norme di sicurezza Scrive la stampa Orlando incentivi solo rispettando i contratti Scrive il Sole In tre mesi 414 cantieri sospesi per irregolarità Gravi nella sicurezza e nel fisco Superbonus, Posse e CDP congelano le operazioni Scrive il messaggero 4 miliardi le truffe ipotizzate 2 miliardi che hanno già preso la strada dei paradisi fiscali Sospeso l'acquisto dei crediti fiscali da sostegni edilizi I tecnici del Senato avvertono con le nuove norme antitruffa A rischio gli investimenti E sulla stampa è tutti i quotidiani Il compleanno nero di Facebook Per la prima volta calano utenti e profitti Il titolo crolla a meno 26% E 200 miliardi bruciati Alla vigilia del diciottesimo anniversario Ed infine per la politica in apertura su tutti i quotidiani L'inizio del Mattarella bis Diritti e dignità La sfida di Mattarella Le diseguaglianze frenano la crescita Riportano la Repubblica e tutti i quotidiani Il Presidente giura alla Camera 55 applausi e 5 minuti di standing ovation Rispetto del Parlamento E spinta sulla riforma del CSM Poi rivela Non potevo sottrarmi Nel suo discorso La spinta alle riforme per costruire l'Italia del dopo emergenza Riporta il messaggero Il messaggio del Presidente a Parlamento e partiti Bisogna riannodare il rapporto con i cittadini L'ovazione dei leader La stabilità promessa Mattarella incoronato titola la stampa Meloni parla di bacchettate sul governo Salvini Chi mi attaccava applaude E intanto proprio Salvini ricuce con Giorgetti Niente strappi su Draghi Il segretario irritato con il ministro per il dialogo con Di Maio Non sapevo niente I governatori bocciano la scelta di uscire dal CDM Per non votare il decreto Covid Nel centro-sinistra invece Letta apre a Bersani Il PD è una grande casa ma ne partito c'è chi mette paletti Serve un percorso condiviso basato sulle idee Sul Corriere l'intervista a Silvio Berlusconi Draghi abbia tutto il tempo Nessuno può rimettere la stabilità in discussione I leader di Forza Italia aggiunge Sono favorevole a riunire i moderati nel solco del PPE Ora sto bene, ho passato prove più dure Il centro invece guarda al sud Caccia ai voti ex grillini Correnzi che frena sul proporzionale Scrive il messaggero Vertice tra il leader di Italia Viva e Toti Presto iniziativa comune dei gruppi parlamentari L'obiettivo del terzo polo è quello di puntare agli elettori Che nel 2018 dettero il 50% al Movimento 5 Stelle Sulla Repubblica i dati dello studio Utrend proporzionale o Rosatellum Solo il centro frena la destra, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia Favoriti in tutti e sei gli scenari Gli italiani bocciano i partiti, tutti Questo è il titolo di libero che riporta i dati del sondaggio per la 7 Per oltre metà dei cittadini il bis di Mattarella Ha certificato il fallimento della politica Con giudizi negativi per i leader La stampa segnala invece il rischio implosione Nel Movimento 5 Stelle Scontro totale tra Conte e Di Maio Che scuote il movimento Serve un confronto per proseguire Il leader tira dritto e pensa di proporre online agli iscritti Un voto di sfiducia al ministro Ed infine virus obbligo di Green Pass Proroga fino all'estate Riportano il messaggero e tutte le testate Il certificato scade il 31 marzo per negozi e locali Governo orientato ad estenderlo L'intenzione è di mantenere il doppio binario Tra vaccinati non immunizzati Contagi e ricoveri sono però in calo E anche il CTS vede la fine Scrive la Repubblica Locatelli, tutti i numeri fanno ben sperare L'EMA intanto frena sulla quarta dose Anche la stampa parla di casi scesi del 25% in una settimana E di ricoveri in terapia intensiva Del meno 8,4% È tutto per questo appuntamento Una buona giornata da Telpress Italia